Gubbio insieme a Perugia Eterni sarà una delle tre fermate ombre di Itabus, il nuovo operatore di trasporto a lunga percorrenza in autobus che farà il suo debutto sulle strade italiane a partire dal 27 maggio prossimo e che consentirà di viaggiare da e per Napoli, Pesaro, Rimini, Roma e Urbino a prezzi modici a partire da 1,90 euro fino a 6,90 euro. Un progetto quello di Luca Cordero di Montezemoli e di altri imprenditori salutato con grande soddisfazione dall'amministrazione comunale Ugubina. Siamo molto soddisfatti, questo è un grande successo del sindaco Stirati e dell'amministrazione tutta perché Gubbio insieme a Perugia Eterni fa parte di questa tratta Rimini-Napoli per cui oltre a essere un servizio per i cittadini di Gubbio che potranno usufruire di questo nuovo servizio è anche una ottima e concreta possibilità di sviluppo per quanto riguarda il comparto turistico. Quindi una grande azienda che ha scelto di investire nella città ci fa molto piacere perché ne ha riconosciuto le potenzialità e anche a livello di brand reputation evidentemente Gubbio è stata scelta anche per la sua posizione baricentrica rispetto all'asse con le Marche e con Urbino soprattutto. Perché poi questo ci dà la possibilità di sviluppare pacchetti, di far sviluppare pacchetti anche agli operatori turistici per cui siamo molto soddisfatti. Questa tratta sarà attiva dal 27 maggio tutti i giorni dal lunedì alla domenica e confidiamo che possa, ripeto, essere un ulteriore canale di sviluppo, un'ulteriore leva di sviluppo per la città di Gubbio, per il tessuto, per tutti gli operatori turistici, per il sistema turistico che opera nella città. Domani intanto sarà il primo weekend di Gubbio e dell'Umbria in zona gialla. L'amministrazione guarda con ottimismo all'imminente ripartenza del comparto turistico. Noi siamo pronti, abbiamo riaperto quelli che sono gli attrattori principali della città, la rete museale, i servizi, l'ufficio turistico ovviamente sarà aperto anche domenica per accogliere eventuali turisti o visitatori che vorranno venire. È il primo weekend che può dare una speranza ai tanti operatori del turismo che in questi mesi hanno sentito forte il peso di questa emergenza sanitaria. Noi siamo in costante contatto con loro e cerchiamo per quanto possibile di raccogliere le istanze che arrivano. Stiamo nel contempo anche sviluppando una massiccia campagna promozionale che uscirà questi giorni, per cui siamo convinti che Gubbio, insieme alla bellezza naturale del suo centro storico e del suo paesaggio, possa garantire quelle esigenze di distanziamento sociale che oramai sono obbligatorie per quanto riguarda anche le normative e la scelta della destinazione da parte dei turisti perché si è sviluppato una certa sensibilità anche su questo. Garantiamo anche tutta una serie di attività all'aperto che abbiamo messo a sistema e che pensiamo, anzi ci auguriamo, siamo convinti, possano essere un ulteriore attrattore per la città di Gubbio.